Sei un investitore immobiliare, se dopo aver staccato dal lavoro, magari alla sera alle 18, hai ancora voglia di andare a visitare degli immobili, se passi molte delle tue serate sui portali immobiliari cercando nuove opportunità di trading, se guardando un palazzo la prima cosa che noti è se c'è qualche appartamento vuoto, magari col pensiero di poter fare una nuova operazione immobiliare, se passeggiando vedi un cartello vendesi non puoi fare a meno di fermarti e leggere cosa stanno vendendo, se ascolti l'opinione di famigliari e amici, magari anche quando ti dicono che questo mestiere non fa per te, però tu comunque continui per la tua strada senza fermarti, se non ti fai affascinare dalle false promesse, tipo quelle del comprare immobili senza soldi, ma rimani sempre con i piedi per terra, se formuli soltanto proposte in base al tuo conto economico, lasciando perdere l'emotività ma concentrandoti esclusivamente su quello che è il risponso dei numeri. Se non ti fermi nonostante stai ricevendo molti no per le tue proposte d'acquisto, perché sai esattamente che i no sono necessari per poter arrivare al sì. Se vedendo un immobile in pessime condizioni, riesci comunque ad immaginartelo come verrà esattamente dopo la ristrutturazione. Se la passione per questo lavoro ti porta a parlare sempre di immobili, anche in situazioni quando proprio non dovresti farlo. Se la voglia di visitare il cantiere è più forte del disagio che proverai dopo per avere le scarpe sporche, magari qualche parte del vestito. Se credi talmente tanto in quello che stai facendo non soltanto da impegnare i tuoi risparmi ma anche di richiedere un mutuo per sviluppare le tue operazioni immobiliari. Se le cose stanno così, beh, allora posso dirti tranquillamente che anche tu sei un investitore immobiliare.